E' la candidata al sindaco del centrodestra, scelta per una sfida difficile ma pronta ad affrontarla grazie alla sua esperienza e alla sua determinazione. Elementi che contraddistinguono l'avvocato Maria Limardo, candidata al sindaco della città di Vibo Valencia. Una città in fondo a tutte le classifiche, ma la Limardo non teme battaglie impossibili da vincere. Ai microfoni il Calabria 7, in esclusiva, racconta i suoi obiettivi, la sua visione politica e acchiosa, il suo legame con un'altra donna importante della politica calabrese, il deputato di Fratelli d'Italia, Vanda Ferro. Io ho accolto con grande entusiasmo e grande slancio la chiamata, che intendo essere veramente una chiamata al servizio della mia comunità. Vibo purtroppo è storia vecchia, oramai l'abbiamo quasi metabolizzato, siamo all'ultimo posto in tutte le graduatorie. E quindi è un fatto assolutamente doloroso, ma io credo che queste problematiche che ci hanno portato a questi livelli debbano essere affrontate con serietà, certamente, ma con altrettanta serenità. Noi vogliamo lanciare ai cittadini anche un messaggio di speranza e vogliamo che siano vicini a noi in questo progetto, che è un progetto di recupero della comunità in generale, ad una cittadinanza attiva e ad una partecipazione alla vita della città, alla vita delle istituzioni. Perché è come se si fosse spezzato il filo che lega i cittadini alle istituzioni. Noi vogliamo ricucire questo legame, vogliamo portare i cittadini vicini a noi in maniera tale che amino la città, che la comprendano come propria. Per fare questo occorre inevitabilmente una buona amministrazione, ma occorre anche una grande collaborazione che noi chiediamo ai cittadini. Da donna, come vede oggi la politica anche alla luce delle polemiche in atto sulla legge per la doppia preferenza di genere che tarda ad arrivare in Consiglio regionale? Ma guardi, io debbo dire che questi meccanismi di parità li ho sempre un po' considerati forse inutili storicamente. Chi mi conosce sa che è questa la mia storia di riferimento, però debbo ahimè riconoscere che se non ci sono dei meccanismi di parità, se non ci sono istituzionalizzati, se non vengono istituzionalizzati, il genere femminile è penalizzato e rimane fuori. Perché noi dobbiamo essere sempre più brave, sempre più avanti, sempre più intelligenti, sempre più preparate. Dobbiamo avere necessariamente una marcia in più rispetto al genere maschile per riuscire ad emergere. E non sempre ci si riesce. Io posso dirle che se ci fosse stato un meccanismo di parità, uno qualunque, nelle passate elezioni regionali che lei ha voluto ricordare, io sarei stata certamente all'interno del Consiglio regionale. Poi ecco, essere donna io credo che porti una specificità particolare, porta quel genio femminile al quale faceva riferimento il Papa, porti anche il senso di una bellezza piena della quale abbiamo necessariamente bisogno. La città ha bisogno di serenità, ha bisogno di bellezza, ha bisogno di essere amata, ha bisogno di essere considerata. E come donna mi sento proprio di dare questo apporto, questa cosa in più. Un messaggio di gentilezza, di dialogo, di speranza ai cittadini, senz'altro. Torno alla mia persona, sono coagulate tutto il centrodestra, ma non è soltanto un progetto che ha sposato, che hanno sposato i partiti classici del centrodestra, è un progetto che vede accanto ai partiti strutturati dal centrodestra, vede anche delle associazioni e altre che comunque si pongono come legame con la comunità di riferimento. Per cui non è solo un progetto che riguarda il partito, ma è allargato alle associazioni e a quanti in genere si riconoscono nella voglia di fare un percorso più ampio, un percorso migliore. Se mi fa la domanda politica prettamente politica del centrodestra, sul livello regionale, sul livello nazionale, io è chiaro, sono sempre stata donna di destra, non ho avuto sempre un percorso lineare in questo senso e sono assolutamente convinta che il centrodestra unito, così come sono convinta riuscirà a vincere questa sfida di guida della città, riuscirà senz'altro a vincere la sfida delle future regionali. Purché però ci intendiamo tutti quanti insieme, nel senso che ci sia unità di intenti di vedute e di cammino. Così, secca, se io dovessi dirle, preferisce Mario Chiuto o Vanda Ferro? Ma non mi chieda chi debba buttare giù dalla torre, perché insomma è una domanda cattiva. Sono entrambi due ottimi amministratori, non ho preferenze. Vanda è stata la mia amica di sempre, con lei abbiamo fatto un percorso storico in alleanza nazionale e ci lega un qualcosa che va oltre l'aspetto politico. L'onorevole Occhiuto è persona di una competenza eccezionale, indiscussa, assolutamente riconosciuta. Credo che sia l'uno che l'altro possano essere due figure che possano fungere da guida per questa nostra vituperata regione, senz'altro.